Telepatia per far innamorare la persona, per far impazzire la persona che vuoi far innamorare funziona anche quando sei lontano, più affermazioni subliminali. Allora, ti chiedo di metterti in una posizione comoda, con la schiena eretta, mano intesa, le spalle rilassate, le braccia rilassate e ascolta il suono della mia voce. E via via che respiri, inspiri ed espiri, puoi portare tranquillamente l'attenzione sull'aria che entra e che esce dai tuoi polmoni, e via via che l'aria entra e esce dai tuoi polmoni, e tu inspiri ed espiri, entri in uno stato di rilassamento sempre più profondo, e ti lascia andare completamente, e la tua mente vaga, libera, il tuo corpo diventa pesante e rilassato, e la tua mente diventa leggera, con la tua mente puoi viaggiare ovunque, puoi muoverti da qualunque parli, fallo innamorare, fallo innamorare, impazzire per te, impazzire per te. E mentre continua ad ascoltare il suono della mia voce, la tua mente vaga, leggera, come spinta verso l'alto da un vento gagliardo che la fa andare, si innamorirà di te, si innamorirà di te. Tu puoi tranquillamente visualizzare con la tua mente, mentre il tuo corpo dorme, puoi visualizzare con la tua mente la persona che ti interessa, la persona alla quale vuoi far prevenire un messaggio. inspira, inspira ed espira, e fallo innamorare, fallo innamorare, inspira ed espira, e allora mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce, ti rilaschi sempre più profondamente, puoi visualizzare davanti a te la persona che veramente ti interessa, la persona che ami, far innamorare quella persona, far impazzire la persona che ami. E questo indipendentemente dalla distanza, indipendentemente dal tempo, tu hai questa capacità. Entra in contatto mentale. La tua mente diventa leggera e viaggia verso la mente di questa persona, della persona che ami, e che vuoi far innamorare. La tua mente entra in contatto con questa persona, questa persona che ami, e che vuoi far innamorare. Mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce e respiro, entri in contatto con questa persona che ami, e che vuoi far innamorare. Entri in contatto con questa persona che ami, e che vuoi far innamorare. Mentre ascolti il suono della mia voce e respiro, Entri in contatto con questa persona che ami, e che vuoi far innamorare. Inspira ed espira. Inspira ed espira. E tutto diventa più forte. E tutto diventa più potente. Entri in contatto con questa persona che ami, e che vuoi far innamorare. Inspira ed espira. Entri in contatto con questa persona che ami, e che vuoi far innamorare. Inspira ed espira. E adesso preparati a mandare un messaggio. Fai innamorare. Preparati a mandare un messaggio a questa persona, in modo tale che la tua mente e la sua mente siano uniti. Ogni cosa che tu penserai, la penserà anche questa persona. perché siete in contatto. Perché siete in contatto. Siete in integrimente. in contatto profondo, in contatto profondo con questa persona che ami, che fa innamorare. Ascolto il suono della mia voce e respiro. Ascolto il suono della mia voce e respiro. Ascolto il suono della mia voce e respiro. In profondità. In profondità. In profondità. In profondità. Inspiro ed espiro. Hai questa possibilità di far innamorare chi desideri. Mentre continuo ad ascoltare il suono della mia voce, respira, 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 fa l'energia, e il tuo potere cresce sempre di più, come un potente magnete sei in grado di attrarre e di conquistare la persona che desideri, come un potente magnete sei in grado di attrarre e di far innamorare una persona che desideri. Inspira, respira. E adesso vivi una forte emozione, l'emozione della consapevolezza di aver fatto innamorare la persona che desideri. Lascia che questa emozione potente cresca dentro di te, si sviluppi possente e benefica dentro la tua mente. Vivi questa emozione forte che ti dà la consapevolezza di riuscire a far innamorare la persona che desideri. Inspira e respira. La tua forza cresce dentro di te e questo messaggio telepatico arriva alla persona. Signora di te, 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 signora di te. Puoi fare tutto questo. Entri in spirito e respira. E adesso che hai questa certezza, e adesso che hai questa sicurezza, ti chiedo, mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce, di fare tre profondi respiri, trattenendo l'aria in alcun istante, poi ispirandolo fuori fino in fondo con la bocca. Anche al termine di questi tre respiri, con la sicurezza di far innamorare la persona che desideri, inizia a muovere le mani, le braccia, le gambe. E per finire, apri dolcemente gli occhi, sentetemi bene, tranquilla, tranquillo, rilassato, rilassata, pronta ad ottenere questo risultato. Bene, con gli occhi aperti, iscriviti al mio canale YouTube, attivando la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare.